La avvicinata le ha chiesto dei soldi e al suo rifiuto la scaraventata terra ed infine la rapinata. Un pomeriggio di paura al colle del parco del Pionta per una giovane aretina è successo giovedì. La ragazza si trovava all'interno dell'area verde quando è stata avvicinata dal malvivente, un 31enne originario del Bangladesh, pregiudicato che le ha chiesto del denaro. Dopo il rifiuto da parte della ragazza, il 31enne l'avrebbe aggredita tentando di sottrarle con violenza la borsa e procurando le ferite ed escoriazioni. La scena fortunatamente non è passata inosservata. La giovana terra è stata infatti notata da alcuni passanti che hanno immediatamente chiamato il 112. I militari dell'arma una volta arrivati hanno individuato e bloccato il bandito. Per lui sono scattate le manette per tentata rapina.